Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo chiaramente in compagnia di Luca, 12.54. Diceva ancora alle folle, quando vedete una nuvola salire da Ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? Beh, vorrei dire a Gesù, non è mica facile valutare questo tempo, è molto più facile fare le previsioni del meteo, no? Che valutare questo tempo, ad esempio per noi, questo tempo complicato, questo tempo che non è più un tempo di cristianità, ma è un tempo a cui non sappiamo ancora dare una forma, una forma di un cristianesimo nuovo, per forza di cose questo. Chi pensa che il cristianesimo debba guardare al passato e riformularsi nelle categorie del passato, secondo me, è cieco. Ma nella Chiesa c'è anche questo dibattito, ecco, credo che Papa Francesco ci porti esattamente, appunto, in uscita, ma non in modo retorico, perché la Chiesa in uscita non può stare semplicemente nell'usare questa parola. Deve mettersi in cammino verso questa uscita e questo non è semplice, ecco, caro Gesù, insomma, non è semplice sta cosa qua, ecco. Non voglio criticare Gesù, ecco, ma a questo tempo poi chiaramente lui lo dice, insomma, non sapete riconoscermi, ma noi siamo ancora in quella situazione, no, che non sappiamo riconoscere o credere fino in fondo che in realtà la parola evangelica sia risolutiva anche in questo nostro tempo, così complesso, bisogna ammetterlo, ecco. E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice, il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costruiti i getti in prigione. Ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ma, come dire, sottolineo soprattutto la prima parte in quello che ho già detto, insomma, riconoscere i segni, i segni. E passo subito alle cose belle, perché? Perché io condivido sempre qualcosa di bello nella mia giornata, che non è solamente in realtà qualcosa di bello, ma è qualcosa che io ritengo essere un segno, anche un segno esattamente della presenza di Dio. Cioè che ogni giorno Dio passa e noi abbiamo la capacità di riconoscerlo, se lo desideriamo. E se in qualche modo ci esercitiamo a farlo, per questo mi piace condividere appunto qualcosa di bello, e mi era stato suggerito da una persona, ecco, perché altrimenti non ci si accorge che Dio viene, e viene esattamente nella nostra quotidianità. La cosa bella della giornata di ieri, l'incontro con un'amica, una vecchia amica, diciamo così, che tra qualche giorno genererà una figlia, e abbiamo parlato proprio di questo, in qualche modo del suo desiderio, ecco, di mettere ordine nella sua vita, ma anche di riprendere la nostalgia della fede, ecco. E ascoltandola, perché in realtà quando si parla con le persone, la cosa essenziale è dare molto tempo alle persone perché parlino, ecco. E quindi ascoltare. E ascoltandola, poi mi sembra sia venuto fuori, ecco, il fatto che ci sono dei segni, ecco, che Dio sta mandando, attraverso le persone, attraverso le situazioni, che però richiamano appunto questa esigenza, questa nostalgia di Dio, no? E allora vi invito a fare questo esercizio, ecco, le cose belle della giornata non sono solo delle cose belle, ma in realtà sono delle cose che ci fanno intuire che Dio non diserta la mia quotidianità, passa e mi comunica qualcosa che può essere messa in dialogo col Vangelo, diciamo così, ecco. Per questo io faccio questo esercizio e ne sono molto grato perché è molto utile a me. Dio passa attraverso la parola, ma è sempre una parola anche mediata dalle persone che incontri e questo mi sembra molto, molto evangelico. Ecco, mi fermo qua. Ale, buona giornata a tutti. Voi!